Pronto, benedetto, mi passi la mamma per favore, passiamo a mamma, ci devo dire una cosa, ah, ah, non lo fa, non lo fa, chiù io, no ma io veramente non lo so come devo fare, un minuto che ci mando un massaggio WhatsApp, ecco qua, vediamo un po', ciao sono io, che fa, mi puoi chiamare che quel grandissimo vastasso di tuo figlio mi chiude, mi chiude nella faccia, mi puoi chiamare, chiamami, chiamami, no, hai detto qua, bo, lo vi pasqua, che sull'ugno io lo vi pasqua, sull'ugno io lo vi pasqua, ha avuto il mio vi pasqua che c'è puoi stare, assurdo, è assurdo, non perciò tendere a così che uno neanche può chiamare che io lo vi, dice chi sei la nonna, ti sto chiudendo, ma vieni, no, appena vi, appena vi, ti faccio sapere, ti faccio sapere io, chiedo che c'è dire, chiedo che c'è dire, è veramente assurdo, si insegna a suonare queste cose, capisci, si insegna a suonare, sai, mi fanno male, eccola qua, pronta, ciao, ciao, sono io, senti, ti volevo dire una cosa, ma chi da tua cucina, quella tua cugina, quella che fa i capelli a casa, dici se tu puoi venire, perché non ti nascondo che l'ultima volta che me li ha fatti mi piacero, mi ha fatto i beccoli, i beccoli tutti che si vedevano di lato, capito, che a me piacero, cioè mi sono rimasti impostati per un bel pezzo, capito, sì, 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 tu ci dici, c'è mia suocera che deve fare i capelli, dici quando può venire, ok, sì, però un shampoo me l'ha a fare pure via, non è che ogni volta, l'altra volta mi ha detto, l'ho fatto trovare con lo shampoo fatto, io voglio arrascata la testa da lei, capito, che loro hanno un modo particolare per farlo, no, no, che devo cambiare colore, come, no, 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 rimango così, rimango, sì, sì, no, nera no, 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 nera no, no, ce l'ho qualcosa di nero ancora, per caso, però, i capelli li lascerò, sì, il resto nero va bene, sì, 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 ma tu non sai niente, sì, ma cosa? No, io no, l'ascella non me l'ha di pelo io, capito, d'inverno no, perché mi tiene cabura, capito, che fa de pelo, assolutamente, d'estate quando vado a mare da de pelo, sì, sì, ma no, siccome ce l'ho sbrizzolato di sotto l'ascella, e non solo, ogni tanto sotto l'ascella ci rugno pure un coi pure colore, ho capito, quello che rimane nel pennello, un spruzzo ci faccio pure, sì, vedi tu, chiamami, chiamami, va bene, e mi dice quando lei è disponibile per venire, ok? Senti, sa dire a Benedetto, che un favore sta su raccossi, mi ha chiuso due volte, va bene, va bene, passami, sì, sì, vuole parlare con me ora, vedi che cosa? Sì, dimmi, non devi chiudere tu, Benedetto, quando chiama la nonna, tu non devi chiudere, capito, perché la nonna, cosa? L'uovetto di Pasqua, non ti preoccupare, a Pasqua tu c'hai l'uovetto della nonna, capito? Tranquillo che c'era senza sorprese scimonite, che cosa è questa sorprese scimonite? Perché di fatto io ho uova di Pasqua che sorprese scimonite, quello che si trova, si trova, l'importante è che c'è il cioccolato, capito? Ah, il cioccolato non ne vuoi e vuoi la sorpresa? Allora quando vengo che ti ho fatto l'uovo, il cioccolato mi ho fatto io, tu stai dicendo, ah? Sì, va bene, va bene, ciao, ciao. Ma stasso, chiede, chiede le cose a tutte, chiede le cose direttamente a tutte. La tutta volta mi fece fare una malafiura che ero al supermercato e mio figlio fa risposta di benedetto che noi dobbiamo andare in un posto e mi portavo, e mi portavo, nel mentre che stavo pagando nella cassa su un sottetto fa, dice, la nonna c'ha un pacco di patatine nella borsa, morivo io, morivo, cominciare a suonare tutta la lime, da pi, 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 al suo detto, e mi vette circondata di tutti, dice, signora mi faccia consolare la borsa, io ho detto, qua c'è la borsa, ti ho detto, ma lo lasci stare, bugiardo, un bambino bugiardo, dice, no signora, dice, non è bugiardo, dicono la verità, mi apra la borsa, e si rendono conto che non c'era niente, capi? Dice, se li hai mangiati prima, e mi piaceva così, signora è la cosa veramente, mi dovete credere, mi sono sentita morta, allora ci fa quello, tu sai dove l'ha buttata la carta, dice, da, e subito io muoio, e mi chiede, ma come si fa a essere così, chi dovrà già? Dice, la carta non ce n'è, dice, signora, dobbiamo controllare dove si è nascosta la carta, io, la caita, dice, venga là dentro, dice, si spoggia, io mi spoggia l'avanzivo, ma credete veramente a questo bugiardone, ci ho detto io, quindi non si ci crede com'è, poi venne una, delicata, dice, signora, sappiamo che, però dice, guardi, faccia con le mani così, e chi lo cominciò a toccare, dice, ah, ah, dice, qua c'è qualcosa, ci si, i piraranciti su, i peli delle ascelle, ci ho detto, un bello caglina poi se ne va, e finirà così, dice, non si preoccupi che io sono pulita, consolò tutti, e l'hanno rimproverato, ci disse, lo bambino, non ne devi dire, bugie però tu, giusto è, oh, tutto qua, il tempo canelliamo, canesciamo, lo supermercato, e suona di nuovo, qui era il che cazza via un pacchi caramella, che non me l'aveva date per pagarle, ci dice, cosa fanno le caramelle, ci dice, portatelo subito, c'è lui, capito, tutto qua, dice che se l'era dimenticato, signori miei, purtroppo, i pizzeri, io non lo so come stanno crescendo, soprattutto su me ne puttele qua, come sta crescendo, ma veramente è assurdo, è qualcosa di particolare, quello della pizzeria, in pizzeria, mio figlio fa, andiamo a mangiare fuori, dice, mamma, dice, ti offro la pizza, si si, offrimi la pizza, dice, come la vuoi, ci si, la voglio, una bella capricciosa, con bello viuscelo tanto, ci si, che io viuscelo non ne mangio mai, però nella pizza, ci dice, mi piace, la pizza con il viuscelo, signori miei, il tempo che ha portato questi pezzi, lui aveva la marinara, la marinara non è che da semplice, qua la marinara è che da i cozi, i frutti di mare, tutte queste cose di là, capito? Allora ci disse io, mi quante cozze che c'hai in questa pizza, ce la dai una alla nonna che la salta, lei la ti rimane di qua, no, e no, che non la mangio più, dice, no, ci si, per carità, e mio figlio mi fa, mamma, la vuoi così, dice, se vuoi te la prendo, dice, no, ormai ho questa, ci disse, mi passi quella posata, il tempo che ha passato la cozze, speri un viuscelo, la via, io già a casa, se l'abbia mangiato, dice, ebbene, ci metti in mano un po' di pizza, e io, e mi mangiavo tutte le cozze, ci piggiava la pizza e ci rompevo la cozze, e dopo un ammottone mi piggiava la pizza mia, e mai con terra, ci fu un manicomio, un po' di pizzeria, un pizzottetto poco meno richiesto a sua nonna, dico io, e ora voi mi dovete dire questo, tutto qua, qualsiasi cosa dice la nonna, ma che cosa ci fai io, a subizzeria, quando nasce io, ma veramente, ma che dico io, morava a mia quando erano io, ma è sua nonna, è sua nonna, ha lavorato l'altro, perché, non mi ha potuto dire mai sua nonna a mia, mai, per la mia schiettezza, per il mio modo di parlare, per il mio rispondere, capito, chissà se volevo inferiore, troppo in conferenza, capito, a casa mia, ai tempi, ma io non, ci ho chiuso subito le porte così, perché io quando vedo che una persona si intrufola troppo, io chiudo le porte, se vi ha infelato come nottea da chissà, capito, cioè, una volta mi arrivò a dire quanto volte lo fai con tuo marito, signorini, e sono cose dedicate queste di qua, sono cose, non è che si sparpavano così, agli altri da oggi col domani si sparpavano queste cose, non mi piace, non mi è piaciuto proprio, cissà, e tu quanto volte lo fai, cissà, no, dice cosa, quello che tu, la domanda mi hai fatto a me, solo che tu mi hai detto quanto volte lo faccio con mio marito, io a te ti dico quanto vuoi tu fai con la voce, dice, non ti permettere più, fuori dalla mia casa, fuori dalla mia casa, perché io un trecante non ne voglio, capito, e da quel giorno c'è questa cosa che non è, non andiamo d'accordo, quindi, un viceridio, un viceridio con la maia a spunturidio, tui dici anni aveva, quando vante sua nonna, sua nonna ci dice, non ne chissuto, 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 ci devi dire questo a tua nonna, capito, tutto qua, signori miei, c'è questo, va bene, tempo fa di nuovo, perché mio figlio ce l'ha, questo fatto che ogni tanto ci porta fuori, in pizzeria, ultimamente ci ha fregati, ultimamente ci ha fregati, capito, perché fa, dice, che cosa vuoi, tu ci sei, io voglio la pizza con i frutti di mare, ci disse, era già con 18 euro, la pizza, quasi 20 euro, capito, tutto qua, ma di questa pizza ce ne ho tre cose soli, ci dice, scusate, noi 15 giorni fa, ci disse, cazzo, c'era un picciutello, c'era un picciutello, una carattata di cozze, di super, dice, signora, dice, madre non è che, è bambina, ma di chi, i picciutelli si mangiano i cuoi, se ce ne si, dice, signora, se vuoi le cozze, si prende le cozze, ma la pizza è questa, si, si, mi accontento di questa, mio marito, dice, una margherita, io uvito, c'è pure lui, marinara, dice, ma io le mangio, c'è, c'è, e ti mangio, dice, così, portano le cozze del giame, come passante mia, il frotte, e tu si mangia solo il pastone, ho capito, il pastone della pizza, e chi ci si può fare, signora mia, non è che a casa è monuagge, capito, al termine, al termine arriva il conte, mio figlio sbianca, piglia e ci fa, a mio marito, dice, eh, papà, dice, non è che c'hai, dice, 100 euro da prestarmi, dice, che cosa ti sembra, no, dice, sto parlando con papà, no, e tu, padre, puro con mia, dice, c'è cazugnato madre, se parla di più con la madre, uno si deve confidare con la madre, che devi fare con questi, dice, pensavo di averli addosso, dice, ma non c'è io, dice, figlio mio, mio marito stava mettendo le mani in tasca, anche perché non l'aveva 100 euro, aveva qualche 15 euro, perché io ci prendeva la mano e c'è il suo cavolo là con sé, ce l'aveva io in mano, ci sono, avevamo il pezzo di un altro figlio mio, un altro solo città, non le potremmo permettere la pizza, se mi dispiace, c'è, ah, com'è che fai, 100 carri di pezzo da spontaneo, sua moglie, c'era più la borsa, e ne scio la carta di 100, di secola, capito, un pezzo interno, un pezzo interno, Benedetto mi fa, sei cattiva, non hai voluto dare risulti a mio papà, ci sono le sue mie piccole per accontentare a te, e ti, no, ma è veramente assurdo, è veramente assurdo, e vabbè, siccome so che i miei racconti piacciono, a me fa piacere averli raccontato, ringrazio tutte le persone che danno anche un super grazie al video, e che devo dire, signori miei, a presto con un'altra storia, per un minuto. Pronta? Sì? Ah, dimmi, quando può venere? Il 2 maggio. Cioè, e io che sarei, chi capirà così fino al 2 maggio? Dice che sarà questa casa, che Romani mi fa sui. Quale malafigura? si dice, mia suocera non può aspettare, che cos'è questa malafigura che dici? Scusami figlia mia. Eh? No, non vado nel parrucchiere, tranquilla, tranquilla. Ok. Vabbè, che cosa? sei benedetto che mi ha a dire una cosa? Passamelo. Vai stasso, sì, vai stasso, mi ha fatto una parnacchia. Pronto? Meglio io, non ti preoccupare, cattolugno io lo vi passo, che sorpresino. Non ti preoccupare. Alla prossima, ciao.